Io faccio Wild intanto perché sono stato fortunato di essere scelto e poi perché è il giornale che ho sempre segnato di fare. Io sono una persona con grande ottimismo, credo nella collaborazione fra le persone, credo nella condivisione della conoscenza, credo nel fatto che se tutti insieme ci mettiamo insieme a condividere dei progetti, se ci scambiamo delle idee, costruiamo insieme un mondo migliore. Wild con la sua anima da cultura digitale, di sharing, di wiki, di tutto quello che possiamo immaginare, è esattamente quello che ho sempre segnato di fare. E poi Wild mi consente di incontrare soltanto belle persone, non incontro politici, non incontro sportivi scemi, perché c'erano anche gli sportivi non scemi, non incontro veline, incontro soltanto persone innovatorie e persone con una passione con il futuro. E questa è la cosa che ti dà una carica pazzesca, tutti i giorni incontrare soltanto belle persone, come si fa a non amare questo giornale.